Sono stati stanziati 27 milioni e 100 mila euro dall'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, somme da destinare a servizi di assistenza in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori siciliane di secondo grado e che verranno suddivise tra le città metropolitane e i liberi consorsi comunali in relazione al numero di alunni con disabilità assistiti nel corrente anno scolastico. Si prevede intanto la liquidazione già nei prossimi giorni della metà delle risorse stanziate. Le città metropolitane e i liberi consorsi comunali delegati a fornire i servizi avevano già rappresentato la necessità, si legge nel comunicato, di ulteriori risorse per garantire l'assistenza fino alla conclusione dell'anno scolastico. L'obiettivo infatti era quello di evitare che ci potesse essere un'interruzione. Ho sollecitato gli uffici, ha affermato l'assessore regionale Nuccio Albano, a predisporre con tempestività lo stanziamento e l'erogazione di questi fondi per scongiurare l'interruzione dei servizi pubblici essenziali. Il nostro scopo è migliorare la qualità della vita, aggiunge degli alunni con disabilità e favorirne l'integrazione nel contesto scolastico, ma anche aiutare e sostenere le famiglie dei soggetti più fragili.